siamo lieti di avere di nuovo qui con noi orazio di mauro docente di storia e filosofia esperto di questioni militari sia dal punto di vista sociologico che tecnologico ricordo che con orazio abbiamo fatto già diverse video interviste molto interessanti che potete ritrovare e riascoltare su questo canale youtube vi ricordo il canale youtube del settimanale comunista la città futura oggi con orazio volevamo iniziare parlando delle novità che ci sono per quello che riguarda la guerra nel nostro continente e quindi diciamo la guerra della nato alla russia per interposta ucraina che novità ci sono sì senato sì mi senti sì ti sento perfettamente allora sì che novità ci sono allora intanto saluto te e saluto tutti gli spettatori dunque la situazione è così è complessa non esattamente sul campo dove sul campo sostanzialmente le cose non vanno male per i russi che procedono con una certa speditezza nelle avanzate una delle prime cose che vorrei dire è la situazione di kupyansk ora kupyansk è una una città importantissima del donbass che i russi cercano di prendere da lungo tempo e che pare ora si stia cominciando a a a verificare questa presa con una specie di accerchiamento dai tre lati c'è un lato un lato è aperto per dare modo agli ucraini di fuggire o comunque di non rimanere chiusi in città e combattere una battaglia come dire persa ma che causerebbe molte perdite anche tra la parte dei russi poi dopo kupyansk c'è toresk ora toresk anche lì la situazione è un po particolare toresk è il nome che andato gli ucraini il vero nome di toresk era gerginsky che è un famoso per chi studia storia dei servizi segreti perché il fondatore del kgb quindi gerginsky è il nome che avevano dato ai sovietici ai tempi di quando esisteva l'unione sovietica e gerginsky è stato cambiato in toresk e anche toresk sta cominciando a vedere le avanguardie ruste ora la situazione a nord la situazione a nord che sarebbe la situazione sia nel nello blast di karkov che a mio parere a questo punto diventerà successivamente il vero il vero obiettivo dei russi perché karkov è una città importantissima sia per storia sia per strategia e quindi penso che i russi si concentreranno a karkov mentre a sud nella cosiddetta zona del delle foci del deniebre dove ci si trova sappiamo la città di kerson città di kerson che ha avuto una storia un po un po travagliata era stata presa o consegnata dal governatore di kerson ai russi poi i russi avevano ritenuto che difenderla sarebbe stato troppo rischioso e l'avevano riconsegnata agli ucraini ritirandosi senza combattere perché poi gli ucraini dicono che sono presa con i combattimenti non è vero sono stati i russi che hanno cambiato il fronte si scorciamento del fronte e quindi l'avevano lasciata agli ucraini però cosa hanno fatto gli ucraini gli ucraini hanno fatto saltare una diga e hanno allagato gran parte del territorio perché hanno fatto questo hanno fatto questo per cercare come dire loro stessi di dividere le forze russe perché le forze russe si sono dovute dividere necessariamente perché quella parte che al centro del loro schieramento è diventato un lago e quindi non si può si può schierarne se c'è solo un lago e quindi l'idea degli ucraini e distruggo la riga e come dire arresto non dico che arresto subito del tutto ma come rallento l'avanzata russa quindi questo ci dice anche che in futuro i russi i ucraini useranno anche forme molto più violente di autodistruzione per fermare russi su questo potremmo starci più che certi gli ucraini sono disposti anche a distruggere il loro paese anche con le loro stesse mani pur di non consegnarlo nelle mani dei russi e fino a qua è una cosa ora invece io volevo intanto smentire l'ho già smentito in un precedente video ma mi riaffermo in questa mia smentita ma questa volta sono stato corroborato dalle dichiarazioni che ha fatto un certo lary johnson che non è l'ultimo degli arrivati ma è invece un analista della cia il quale ormai in pensione ha detto e ripetuto guardate questa storia che ci sono i coreani del nord schierati con quasi diecimila uomini che è un gruppo consistente specialmente per la coreana del nord che non è che abbia molti abitanti a nord nella zona di come si chiama di kursk è falso ed è una quella che viene chiamata in termini tecnico una psicop psicop significa operazione psichica cioè un'operazione nella quale si credere alle persone una cosa e per indurle a poi pensare un'altra cosa che a noi conviene che loro pensino è un vecchio trucco che si usava fin dai tempi della guerra fredda negli anni cinquanta potrei citare un nome per esempio quando ci fu il colpo di stato in in cile e poi pochi mesi prima ci fu un'operazione psicop chiamata lo squartato the quarter the men che consisteva nel far trovare uomini morti animali morti e via dicendo per creare senso di ansia e di e di insicurezza nella popolazione qui cosa si vuole cercare di far capire devo cercare di capire due cose primo che i russi stanno avendo delle perdite e quindi stanno cercando a tutti i modi di limitarle accettando anche l'aiuto dei coreani del nord e questo non è vero o è vero solamente in parte seconda cosa si vuole dire si vuole dire la russia come dire sta cercando in tutti i modi di serrare i ranghi per attaccare anche questo non è vero la storia è molto molto semplice la russia questa guerra non la voleva va bene che ci sono ce la mettiamo in testa ma ci è stata trascinata trascinata in questa guerra la sta conducendo per lunghi anni siamo arrivati quasi al terzo anno faccio notare che superato le vacanze di natale noi saremo nel mese di gennaio e quindi saremo a 23 mesi da completare un anno da 12 da 11 mesi da completare un anno quindi quello che volevo dirvi è non pensiate che la guerra di attrito che i russi stanno combattendo colpisca i russi ma colpirà noi e come colpirà noi ci colpirà perché piano piano noi stiamo stiamo come dire provando intanto perché le materie prime che noi prima prendevamo dalla russia adesso non le prendiamo più a ecco a seguito di questo sta avvenendo una cosa in libia che proprio vicino e di fronte casa nostra personalmente per dove abito io proprio di fronte c'è la libia che sappiamo le condizioni in cui è ma sappiamo anche che la libia ecco dove dobbiamo capire che la libia la parte petrolifera è nelle mani del generale aftano la parte invece è gassifera e nelle mani di dei nostri alleati ora lì noi stiamo facendo tutta una situazione in cui stiamo combattendo una guerra sotterranea questo magari un'altra volta ne potrà parlare ma lo annuncio fin da adesso in cui noi siamo alleati con la germania contro la francia e l'america buona fortuna gli italiani detto questo torno a parlare della dell'ucraina e e comincio a spiegare alcune cose intanto quello che vuole fare trump scusa meglio questa cosa che hai detto della libia come spiegare un attimo meglio questa cosa che hai detto della libia cioè l'italia sarebbe alleata con la germania contro la francia e gli stati uniti in che senso sia renato cerco di essere abbastanza sintetico ma chiaro allora noi sappiamo che la zona del quella di tripoli la capitale storica del libia è in mano a quelli che lo che vengono riconosciuti dalla dalla dall'onu e dalla unità europea e da noi questa parte contiene molto gas ma questo ma questa parte noi la stiamo come dire organizzando a mezzatria perché ci sono anche i turchi che hanno salvato noi noi italiani siamo stati salvati le nostre installazioni petrolifere gasifere della parte del tripo sono stati salvati dai turchi ovviamente questo non può durare molto e allora gli italiani stanno preparando quella che è una legione libica legione è una parola un po' particolare in cui italiani e altre e altri stati a noi a noi afferenti la germania è quella che controlla tutto e per creare un hub gasifero dove il controllo è dell'italia e della germania penso che sarà più della germania che l'italia dell'italia ma questo è un altro discorso cosa succederà che per fare questo noi dovremmo mettere in discussione gli interessi francesi e in seconda battuta quelli americani e quindi gli americani francesi non staranno con le mani in mano faranno qualche reazione che reazione faranno lo sanno solo loro noi stiamo semplicemente facendo una legione libica fatta da nostri soldati e che i nostri soldati possono essere impegnati in combattimento non è escluso non succederà per adesso ma non è escluso è abbastanza chiaro sì più chiaro grazie e torniamo all'ucraina allora nessuno conosce le proposte di tram anzi io dico non solo non le conosce nessuno ma manco trampe sa cosa sono queste proposte perché trampe non sa ancora diverse cose cosa non sa trampe sampe non sa di quanto sono ancora disposti gli arsenali americani e in secondo battuta europei cioè lui non sa perché biden non gliel'ha mai detto quanti quanti ancora cannoni quanti proiettili quanti armi quanto e tutta una serie di cose che servono per la guerra sono presenti negli arsenali americani quindi trampe questo non lo sa se non sapendo questo non può fare nessuna proposta ma non solo non sa questo non sa neanche sul campo di battaglia la reale disposizione dell'esercito ucraino che non gli è stata mai comunicata da nessuno lo saprà forse in questi giorni incontrando ieri ha incontrato biden ma questo è un incontro per eliminare poi ci saranno degli incontri che a noi non ci faranno sapere che sono incontri fra i sottoposti di trampe sottoposti di biden e ci saranno una come dire un riversamento di notizie dall'uno all'altro per cui trump nel volgere di una settimana massimo avrà le idee più chiare a quel punto potrà lui sempre se ne ha la capacità mettere in campo la pace perché la pace così adesso trump sono semplicemente parole tutto quello che si sa in televisione nei giornali e come dire carta straccia o come si potrebbe chiamare bite consumati inutilmente per cui tutto quello quando noi sentiamo dire la proposta di trampe questa questa e questa ascoltatemi non è così non è affatto così la proposta di trampe sono proposte che possono essere fatte in ma in base a ciò che la situazione è reale perché ricordiamoci che trampe potrebbe anche offrire un diciamo così una un vantaggio ai russi dicendogli vi concedo tutto quello che avete che avete conquistato ma questo non ha senso dire diamo ai russi che loro sono presi non ha senso perché da dire dare significa anche dire ma come me lo dai perché io voglio una serie di cose voglio la riconoscimento da parte dell'ombo voglio un trattato di pace nella quale si dica che questi territori sono miei e non sono più tuoi non voglio una tregua tipo corea del corea degli anni cinquanta perché dobbiamo sempre tenere conto che ecco il punto le possibilità che ha gli stazioni d'america sono anche che si hanno sconosciuti faccio l'esempio un generale del pentagono di quelli che biden vuole anche se tramo vuole cacciare via perché tramo c'è un elenco di generale del pentagono che gli hanno disobbedito ne parleremo quando parlerò parlo parlerò del medio oriente e quindi questo generale ormai sapendo che il suo futuro è ormai diciamo così finito come carriera perché ma perché trambolo caccerà via appena si installerà la caposa bianca perché biden ha preparato tutto un elenco di persone da cacciare poi vi spiegherò anche perché e cosa ha detto dice ma guardate che è perché la russia perché sennò a quest'ora noi vista la situazione sul campo ci saremmo scesi in campo noi cioè ha detto una cosa che avrebbe dovuto come dire essere messa alle prime aperture di tutti i telegiornali tutti i giornali di tutti i sistemi di informativo che quando tu dici quando un generale del pentagono ti dice ma guardate che se non fosse perché la russa c'è le bomba atomiche noi saremmo già sul terreno a combattere accanto agli ucraini scusami perché sul terreno qualcuno gli potrebbe dire è perché lui non già sta facendo più a e c'è una cosa importante uno di questi diciamo così nazisti ucraini ha detto che visto che gli ucraini sono ormai vigliacchi che hanno abbandonato perché pare che ci siano quasi un milione di maschi che sia fuggito dall'ucraina per non essere costretto a combattere al fronte e quindi i cosiddetti appartenenti alle informazioni neonaziste dice beh questi non sono più ucraini ce ne liberiamo e quindi puliamo la razza queste parole fra la purificazione della razza che sono le parole che ha detto uno dei responsabili ucraini di questi battaglioni neonazisti perché tutte e due in generale questo qua ci dicono tutte e due in modo diverso con le loro lingue ci dicono la stessa cosa qua soldati non ce ne sono più qua soldati non ce ne sono più e quindi praticamente la situazione comincia a prendere una piega molto complessa per cui intanto io dico a tutti coloro che ci seguono ci stanno seguendo e spero che ci erano molti perché di non credere nulla di quello che voi sentite dire nei prossimi giorni perché il piano Trump non esiste e quando Trump sarà nel pieno delle conoscenze cioè saprà cose che può sapere solo il capo dell'esercito americano perché Trump è diventato il capo dell'esercito americano ricordiamocelo sempre lui è il comandante in chief con questo e lui può addirittura dichiarato dal 20 gennaio sì che lo diventerà lo diventerà dal 20 gennaio sì lo diventerà ma adesso ha diritto ad avere il tra transizione deve sapere cose che nessuno fa e quando lui sarà il capo dell'esercito potrebbe fare una cosa se volesse non la farà tranquilli potrebbe dichiarare un stato di guerra e per sei mesi fare quello che vuole poi magari si ritrova dopo sei mesi ad andare al congresso e a chiedere la ratifica e questo è un altro discorso ma ricordiamoci quando sentire dire il capo dell'esercito america è un uomo un piccolo a piccolo potere e non credo proprio quando c'era la guerra di corea o la cosa stava facendo la guerra nel laos spesso negli anni 50 e 60 alcuni storici americani di quelli della new left americana dicevano sempre dice come fanno i presidenti americani a vincere il congresso semplicemente se ne fregano non ci pensano al congresso e poi poi trovano un modo per per prenderlo in giro quindi io rovescio la cosa il comandante dell'esercito americano e della statunità dell'america e ha poteri in di guerra assoluti infatti quando c'era quando c'era la nostra guerra di indimendenza che ha creato questo i poteri del presidente perché l'incon aveva i poteri che oggi hanno l'america perché in guerra l'incon stabiliva tutto poi c'entramente l'incon non si interessava delle come disporre le armate sul terreno ma questo io le mandavo ai suoi generali quindi capite questo discorso quando sentite dire la pace è sicura la pace si fa qua sono tutte falsità sono tutte falsità che lo stesso zeleschi capisce e perché poi guardate altre notizie che sono venute fuori pare che a un certo punto gli ucraini dicono va bene facciamo questa concessione ma questa concessione facciamo l'esempio c'è una cosa che è comparsa sul Corriere della Sera sulla Repubblica si creerà una buffer zone una zona di interdizione zona dove non ci saranno soldati ebbene sapete cosa hanno scritto questi giornali io se fossi l'editorio di questi giornali caccerei via tutti quanti dal direttore all'ultimo dei copisti hanno detto dice vabbè hanno scritto questo che la zona di interdizione sarà presidiata da forze francesi inglesi e italiani cioè scusatemi che la russia si sopporta che dopo aver avuto una serie di problematiche con questi paesi che l'hanno che hanno rifornito l'ucraina adesso gli consegna la zona di la zona di contatto con le proprie forze guardate queste cose italiani amici qualsiasi cosa compagni dovete riflettere queste sono falsità sono enormi falsità perché immaginate voi che la russia possa mai accettare che al suo confine si schierano come forze direzione di pace gli italiani inglesi francesi e magari ci mettiamo anche gli spagnoli visto che gli spagnoli qualche cosa la sanno fare non è così non è esatto così quindi la guerra continuerà e continuerà per lungo tempo ancora e tutte le proposte che farà mai te saranno solo proposte che se mai den capisce che che se trump capisce che cosa può fare ma se ma se trump guarderà solo all'immagine di se stesso si dovrà rassegnare forse si dovrà rassegnare a una cosa che la potenza americana non è più quella di una volta e su questo io mi fermo e cedo la parola al mio interlocutore per passare poi dopo a il medio oriente l'iran e israele si scusa innanzitutto si è parlato molto di questa telefonata che però poi il russia smentito chiedete si è fatto in proposito una telefonata di questo genere è quantomeno fa 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 perché una telefonata è io ti telefono e ti dico sì vogliamo voglio fare la pace io ti rispondo ma come e non lo so ancora devo vedere il tram sia così stupido è come se tu telefonassi a un amico col quale ci sono delle freddure poi dopo dice sai voglio fare la pace io ti chiedo come facciamo questa pace ah non lo so ci devo pensare è un po sembrerebbe da quello che sostiene il washington post che trump abbia detto alla russia di non di non sviluppare un escalation in questo momento per consentire poi quando lui andrà al governo di facilitare diciamo un accordo questo sembrerebbe l'oggetto della telefonata secondo il washington post allora io vorrei fare una domanda al washington post in questi 29 28 mesi il washington post ha visto escalation ha visto che gli russi hanno usato bombe nucleari ha visto che i russi hanno iniziato a fare bombardamenti a tappeto per tappeto in dentro come fanno gli israeliani a gaza no ma di che escalation sta parlando di washington post la questione potrebbe essere che come dice pure te il fronte ucraino rischia di crollare e quindi russi potrebbero diciamo avanzare in maniera molto più rapida dentro il territorio ucraino e e questo potrebbe rendere più difficile poi trovare un accordo questa no questo semplicemente favorisce invece un accordo perché da la russa ciò che vuole e quindi a questo punto la russia più e più disposta a fare un accordo sì ma l'accordo l'ha fatto in due cioè deve fare un accordo con la nato la nato non è che ho capito qual è la tua posizione ma benissimo e voglio dire la nato potrebbe dire non avanzare ma che senso ha dire non avanzare a chi sta avanzando da venti da ventotto mesi che senso ha perché come se io ti dico tu avanzi però ora non devi più avanzare ma è trump e secondo questo è quello che dice washington post può essere pure che non è vero però potrebbe essere verosimile che gli abbia detto di non esagerare perché poi sarebbe più difficile per lui trovare una via d'uscita però vabbè naturalmente non possiamo essere sicuri anche se la cosa mi sembra comunque verosimile va bene invece non ti voglio fare una domanda un po più complessa dicevi sì che appunto trump diventerà il comandante in capo dell'esercito sappiamo sicuramente il presidente degli stati uniti ha un potere molto ampio perché si tratta di una repubblica liberale presidenziale però la domanda che ti vorrei fare è però quanto poi in effetti decide il presidente cioè il governo rispetto diciamo allo stato perché appunto una cosa il governo un'altra è lo stato e quindi secondo te quali sono i margini che ha il capo del governo rispetto allo stato allora i margini sono ampi perché trump nel primo mandato non era molto esperto di macchina statale e ha fatto diversi errori ha nominato persone che poi lo hanno tradito ma non è stato obbedito poi prima abbiamo parlato del fatto che ci sono molti generali che sono sulla lista nera di trump ma sapete perché allora una delle cose che trump ha dichiarato dopo essere stato eletto e mi ritirerò dalla siria ora dato che noi italiani abbiamo la memoria del pesce rosso questa della diato dalla siria è una cosa che trump aveva aveva ordinato 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 come presidente dell'america intorno al 2019 aveva ordinato di ritirarsi dalla c dalla siria ma ad oggi questo non è avvenuto perché perché i generali del pentagono trovarono mille scuse mille tempo leggiamenti per non ritirarsi dalla dalla siria nella speranza che poi alla fine fu premiata che trump l'anno successivo non sarebbe stato più che siete stati d'america le cose andarono bene per quei generali oggi le cose vanno male perché è semplicissimo perché gli stati uniti d'america ora hanno un presidente che sa chi l'ha tradito e sa chi non l'ha tradito prendiamo pompeo pompeo è un bell'uomo pacioccone pieno di simpatico è venuto anche in italia è stato è andato a trovare la casa dei suoi nonni in abruzzo e siamo tutti contenti per lui ma pompeo uno che di quelli che ha ingannato trump lo ha ingannato attenzione non tradito ingannato che ancora peggio perché intradire che uno tradisce tutte le cose che ti ha tradito una volta dopo di che con lui è giusto ma che ti inganna e ti dice che le cose stanno andando in un modo invece lui fa le cose completamente al contrario quello è ancora peggio scusa questo discorso mi sembra interessante e andrebbe forse approfondito perché diciamo pure storicamente mettersi contro l'esercito cioè l'apparato militare industriale è una cosa molto molto pericolosa permetti un po di esperienza di se c'è un americano ce l'ho aspetta aspetta fammi finire poi così rispondi meglio perché senti tutto quello che ho detto in primo luogo ci potrebbe essere il fatto che ti eliminano proprio come hanno fatto per esempio con Kennedy in secondo luogo ti potrebbero fare fuori diciamo politicamente come avvenne con McCarthy quando diciamo ampliò la caccia alle streghe cercando di colpire l'esercito quindi la cosa di mettersi contro l'esercito potrebbe essere molto pericolosa e potrebbe essere molto pericolosa anche per per lo stato statunitense e quindi potrebbe anche acuire diciamo la possibile contraddizione tra il governo e lo stato che naturalmente potrebbe essere sotto un certo punto di vista anche una cosa positiva perché se trump controllasse pienamente l'esercito e lo stato la situazione sarebbe ancora più catastrofica se ci fossero delle contraddizioni l'imperialismo statunitense potrebbe essere diciamo in parte frenato rallentato e che cosa ne pensi allora io ne penso forse sono molto molto in disaccordo con te su questa cosa esistono di spiegarmi meglio l'esercito americano non è un esercito da battaglia cioè non è un esercito che scende in campo e si schiera con un esercito di pari forza e inizia la battaglia storicamente questo è successo pochissime volte e quando è successo parliamo dell'esercito parliamo dell'apparato militare industriale il generale non è uno capo che sta lì e dice l'esercito americano forse era più bellicoso di quanto era adesso allora cerchiamo di capirci l'apparato del generale il generale non è uno capo che sta lì e dice soldati portite come faceva come si diceva si pensava che facesse il generale cadorno no esercito americano intanto in europa non c'è più di 50 mila uomini di cui operativi ce ne saranno una decina di migliaia poco più e quindi gli esercito americano non ha in questo momento possibilità reale di ingaggiare battaglia con un pari esercito su un territorio qualsiasi questo è importante i generali americani e questo lo sanno bene sanno bene americani si guardano bene da impegnare guardate che il cosiddetto conquista dell'irac guardate spesso si dice ah ma quando bush padre prese bassora perché non ha preso poi bagdad e ha tolto saddam hussein e perché se l'avesse fatto avrebbe pagato ma amari conseguenze di perdite e quindi non l'ha fatto il figlio che ha avuto tutti i costi prendere bagdad non è che poi dopo è stato bene è stato decisamente male sono stati anni terribili ma questo discorso adesso che ho spiegato immaginate cosa succede in un esercito americano allora quando negli anni 80 90 si facevano le manovre nato in italia ed europa se ne facevano due che erano chiamate con nomi di convenzione una quella quella autunnale proprio che cadeva in questo periodo si chiamava abel archer perché vi dico questa cosa perché quando gli americani facevano questa manovra e si loro loro stabilivano gli obiettivi muovevano i soldati muovevano i vari paesi portoghese arrivavano arrivavano però c'era tutta una situazione ma i soldati americani non erano in grado di non tutti potevano essere trasportati su mezzi su un camion su camionette su qualche cosa perché perché non c'erano abbastanza mezzi americani e quindi cosa facevano i soldati americani si stabilivano che gli italiani o i francesi o i portoghese o gli inglesi o i tedeschi li portassero sui loro automezzi guardate questa cosa pochi la sanno perché l'esercito americano era un esercito ostanziale quindi che stava nelle caserme e poi dopo tornavoci oppure non era come dire anche attualmente anzi forse di più di allora non c'aveva le come dire i mezzi per potersi spostare a sufficienza perché se poter mettiamo che erano 30 mila che si dovevano spostare allora gli americani avevano mezzi per 15 20 mila il resto se la faceva a piedi no allora si mettevano d'accordo con gli altri paesi alleati quindi voi immaginate che significa questo significa che l'esercito americano ha questa debolezza è una debolezza fortissima io potrei fare un escursus ma dove ci vorrebbe un tempo che viene infinito da partire dalla guerra di secessione americana che del 1700 o 76 ad oggi in questo americano si è sempre trovato innotevole difficoltà va bene ok il concetto penso sia abbastanza chiaro ti voglio fare un'altra domanda allora diversi analisti sostengono che la prospettiva di trump sarà quella diciamo di una ripresa di Yalta e quindi sostanzialmente di trovare un accordo in primo luogo con la Russia per diciamo dividere le aree di influenza che poi eninisticamente potrebbe essere appunto la spartizione del mondo tra potenze imperialiste e quindi alcuni analisti sostengono che la questione a quel punto diventerà di capire dove finisce l'area di competenza degli Stati Uniti e dove inizia quella della Russia però c'è la questione anche che sembrerebbe che gli Stati Uniti vorrebbero sbolognare per così dire scaricare la guerra alla Russia all'Unione Europea per diciamo da una parte dedicarsi di più ai loro interessi economici che riguardano più l'area del Pacifico e quindi potenzialmente il confronto scontro con la Cina e due perché comunque farebbe comodo se a farsi la guerra e quindi a distruggersi a vicenda fossero due competitori degli Stati Uniti cioè la federazione russa e l'Unione Europea. Allora la prima cosa che ti voglio chiedere è se questo scenario a te ti sembra credibile, attendibile oppure se secondo te non lo è e in secondo luogo la questione su cui si discute, volevo sentire nel caso il tuo parere, se l'Unione Europea si trovasse praticamente da sola a confrontarsi con la Russia sarebbe in grado di portare avanti la guerra con la Russia da sola o dovrebbe accettare subito diciamo un accordo di pace che sarebbe poi una sostanziale resa? Allora, che Trump voglia lasciare all'Europa il compito di sostenere l'Ucraina è una sua idea ma di fatto per metterla in pratica deve dare delle garanzie alla Russia che non so se è ancora in grado di dare e le garanzie fondamentali sono non è che tu dopo continui a rifornire gli europei e gli europei riforniscono gli ucraini, questo no, se facciamo la pace io e tu, Russia e America, i primi che devono essere mollati sono gli europei perché gli europei sono quelli che poi alla fine devono fare l'accordo con me, dirà la Russia cioè la Russia dirà se siete capaci di battermi, battetemi, ma se non siete capaci di battermi se non siete capaci dovete accettare un accordo di pace su basi a me favorevoli e la base principale è questa, non è che l'America si ritira dalla guerra dell'Ucraina e però lascia gli europei, a quale però fornisce armi, fornisce denaro, fornisce cose e quindi è come se non fosse successo niente, questo non può succedere, non è che al cremino ci stanno gli imbecilli, anche me ci sta gente intelligentissima, gente che è stata trascinata con la forza, cioè la nostra forza, voi pensate, vedete la Germania, la Germania in questo momento si è dovuta ridurre a fare quella che dicevo prima, la legione ribiga perché non sa dove sbattere la testa per gas, non sa dove sbattere la testa, chi conosce la Germania sa che in Germania il gas non si è mai pagato, il gas è stato gratis e ora la Germania è in crisi profonda e c'è un abbassamento di produzione industriale, anche noi abbiamo la produzione industriale bassa, quindi cosa puoi dire alla Russia? Sì, me ne vado dal difeso dell'Ucraina, ci pensa l'Europa, ma l'Europa non potrà farcela da sola, e sapete perché non potrà farcela da sola, perché la produzione di armamenti significa che se tu fai un carro armato non fai una panda o due pande o tre pande, quindi quando tu dirai papà papà comami la panda che ho offeso la patente, e papà dirà sì ma la panda arriva a fare un po' di danni, come un po' di danni, è perché devono rispettare i piccoli consegni, quindi l'Europa da sola non ce la può fare, ne compresa l'Inghilterra, poi sull'Inghilterra potrei anche raccontare alcuni episodi in cui l'Inghilterra ha fatto figure barbine in Iraq, veramente barbine, che se io fossi inglese e mi dicessero che ho fatto questa figura, mi vergognerei, ma noi siamo invece poi in Italia, sono gli italiani a essere quelli che sono barbine. Grazie, invece scusa, un altro scenario di cui si è parlato, pure qui ti chiedo il tuo parere, perché non so quanto sia attendibile, si parla del fatto che l'Occidente vorrebbe sostanzialmente scaricare Zelensky e quindi favorire un cambio di regime in Ucraina, imponendogli di fare finalmente le elezioni che non ha fatto, siccome è assolutamente impopolare, perderebbe certamente, e questo forse per favorire un accordo con la Russia, è tutto un punto interrogativo perché non so quanto sia uno scenario attendibile. Te che cosa ne pensi? Allora, scaricare Zelensky a qualche capo europeo e forse allo stesso Trump piacerebbe, ma Zelensky è uno che non si fa scaricare da solo, o perlomeno il gruppo che sottiene Zelensky si guarda bene, si sta attento, non si fa scaricare. Quindi, perché Zelensky una volta uscito fuori dal potere è morto, è semplicemente un uomo morto, è un morto che cammina, ma non solo morto, poi tutte quelle ricchezze che lui ha in Europa, in America, ma anche in Italia, c'è una bellissima villa di cui nessun giornalista ha avuto la dignità di fare qualche foto, una foto, una foto di questa villa, non è cosa della quale. Va bene, no, perché Zelensky si opporrà, io cerco di spiegare una cosa e faccio riferimento alla guerra di Corea, degli anni Cinque. Un grandissimo storico americano, Bruce Cummings, che ha scritto dei libri basilari, proprio basilari sulla Corea e sulla guerra di Corea, e se uno vuole sapere cosa, deve leggere questi libri di Bush, poi magari può leggere anche altri libri e sono utilissimi, ma se non legge i libri di Cummings sulla Corea non sa una beata mazza. Cosa dice anche il tuo punto, Cummings? Non è che la guerra di Corea c'era Stalin da una parte e Truman e Stalin dall'altra, che comandavano come burattini Kim Il-sung e Sung Han-raei. No, questi facevano la loro politica, questi erano dialetticamente a difesa della loro posizione. Quindi io non penso che Zelensky sia un burattino, sembra un burattino, magari lo fosse. Ma è uno che si è ben saputo vendere in questi mesi e l'ha fatto abbastanza bene. A mio parere, per buttare fuori Zelensky sarà un'impresa, diciamo così, colossale, a meno che poi decidano di ucciderlo. E vabbè, se lo vogliono ucciderlo, lo uccidono, non c'è problemi. Però ricordate. Grazie, sì, molto chiaro, grazie. Invece, scusa, un'altra questione che ti volevo sottoporre, oppure questo appunto non so quanto sia attendibile la questione, però insomma è uno scenario di cui si discute, volevo sentire appunto il tuo parere. Cioè, si dice che se non si troverà un accordo tipo quello della Corea, che si trovò nella guerra in Corea, che sarebbe diciamo un semplice congelamento della guerra, quello che si prospetterebbe sarebbe una lunga guerra di attrito, dove vincerebbe chi sarebbe in grado di resistere un giorno in più del suo avversario. E qui alcuni sostengono che in questa guerra, che potrebbe essere di attrito molto lunga, la Russia poi dovrebbe avere la peggio perché la Nato può resistere di più della Russia. Te che cosa ne pensi di questa? Allora, questa domanda è una domanda molto molto buona, molto molto importante, alla quale devo rispondere in questo modo. Se l'Europa vuole vincere il confronto con la Russia, l'Europa deve diventare un'altra cosa. Non deve essere l'Europa di adesso, non deve essere l'Europa dove noi abbiamo una vita serena, bella, tranquilla, felice, felice, insomma, senza problemi. No, se vogliamo battere la Russia, se volete battere la Russia, dovete trasformare il vostro stile di vita, ma per stile di vita non intendo solamente stile di vita, ciò che mangiate, come agite. Noi non vogliamo sconfiggere. Vorremmo un accordo pacifico. Se vuole vincere, l'Europa vuole vincere la guerra, deve abbandonare una serie di cose che sono soprattutto la società europea. Quella società europea non può vincere la guerra. Un'altra società, sfruttando le risorse della società dell'Europa, che non sono risorse, come dire, materie prime, ma sono persone, sono cose, allora quella forse può vincere la guerra, ma quella deve diventare un'altra cosa. Ok, molto interessante. Ma proprio a questo proposito, a partire da Draghi, von der Lion, eccetera, parlano appunto di una trasformazione radicale, tanto che parlano apertamente di economia di guerra e la maggior parte di questi signori danno sostanzialmente per scontato che ci sarà uno scontro diretto con la Russia, semplicemente discutono in quale anno appunto saranno pronti per questo scontro. In diversi paesi europei già si parla di rintrodurre il servizio militare obbligatorio, anche per le donne, quindi in teoria ci potrebbe essere questa trasformazione. Ma non è solo il servizio militare che deve essere cambiato, deve essere cambiato anche il tipo di società. La nostra società è una società aperta, è una società dove alle minoranze di carattere sessuale noi diamo grande aiuto, grande importanza. In un'Europa che deve essere presa a confronto con la Russia, noi dobbiamo creare un nuovo tipo di rapporti sociali. I rapporti sociali devono cambiare necessariamente, non si vince la guerra solo prendendo la gente e mandandola al fronte, si vince se le persone che vanno a fronte hanno come motivo della loro presenza una società che li tiene in considerazione. Oggigiorno noi abbiamo stabilito che l'individuo non ha nessun valore, solo se appartiene a un gruppo, se è un gruppo minoritario non ce ne importa niente, ma è un gruppo. Guardate, quando voi parlate, ad esempio abbiamo bisogno di uomini, perché allora non dovemmo arruolare di extracomunitari? In Italia chi glielo dice alla Lega che dobbiamo dare la cittadinanza a centinaia di migliaia di extracomunitari per mandarli al fronte? Perché è finita la Lega, perché poi questi qua non la potranno più Lega. Chi glielo dice che dobbiamo favorire la natalità? Ma non a parole, a fatti. La sicuramente in questo momento la Russia è ossessionata dalla natalità, ha dei problemi, ma abbiamo anche noi problemi della natalità. E allora la natalità significa che dobbiamo preferire la famiglia nucleare, non le famiglie aperte. Guardate che questa cosa, se voi vedete, oggi è morto Ferrarotti, Ferrarotti su questo argomento ha fatto molto, poi magari uno non può essere d'accordo. Faccio salute alla memoria di Ferrarotti, chi può accettare, però è stato quello che ha fondato la sociologia. Guardate, la natalità è un fatto militare di guerra. Se noi non favoriamo la natalità secondo una serie di cose per cui il padre che fa nascere i figli dalla propria moglie poi ha un ritorno, quello non va a morire solo perché poi alla fine i figli lo mandano a quel paese o perché c'è poi la famiglia aperta. Io sono per questa società, questa è la società che è la migliore che io ho. Scusa Orazio, siccome siamo quasi in chiusura, se volevamo dire qualcosa sul Medio Oriente forse... Sì, sul Medio Oriente tutto si basa sul fatto se Trump sarà capace, ma non ne sarà capace, di convincere la Russia e la Cina a mollare l'Iran. Se non riesce a convincere la Russia e la Cina a mollare l'Iran, per Israele, sulle lunga, finirà male. Sono stato abbastanza sintetico, sì, lo so. Invece adesso spiegaci meglio. Come fa a convincere la Russia e la Cina a mollare l'Iran? Per esempio, alla Russia potrebbe dire più di quello che vuoi in Europa. semplicissimo. Però ci stanno pure i paesi dell'Europa centro-occidentale che potrebbero non essere d'accordo. E tu lo sai quanti sono gli Stati baltici? Sono con popolazioni... L'Estonia, che tanto parla, ha una popolazione di un milione e mezzo di abitanti. Stiamo parlando dei paesi dell'Europa centro-occidentale, quindi Inghilterra, Germania, Francia, Italia, eccetera. E questo devono essere gli europei a dire facciamo un accordo con la Russia, facciamo una convivenza. Ma questo non lo so. Ora per esempio, guardate, c'è una notizia che sembra una stupidaggia. È una stupidaggia. 113 deputati tedeschi del Bundestag hanno fatto una petizione al presidente del federale Steinmeier per mettere fuori legge Alternative for Deutschland. Vi sembra una cosa seria? No. È una cosa buffonesca. Ma c'è una cosa seria alle spalle. L'unico che può spingere la Germania ad andare d'accordo con la Russia è Alternative for Deutschland. Questi non ci vogliono andare e quindi li dobbiamo rendere quasi dei pari. 113 hanno firmato questa castroneria in cui richiedono a Steinmeier, caro Steinmeier, rendi fuori legge Alternative for Deutschland. E poi Alternative for Deutschland gli risponderà sicuramente. Il giorno dopo la guerra civile me la sistemi tu? Perché Alternative for Deutschland è un partito che ha il 30% e alle prossime elezioni di febbraio... Come farebbero a convincere la Repubblica popolare cinese a rompere i rapporti? Io so che su questo ci sono molte circunzioni, però ti dico la mia. La popolare cinese è debolissima perché è basata sulle esportazioni. Tu basta che gli tagli le esportazioni che la Cina è finita. So che molti filocinesi, che in Italia non mancano, dicono che la Cina è invincibile fino a un certo punto. La Cina vive di esportazioni, non è stata capace di creare un mercato interno. Se gli tagli il mercato esterno, lo devi fare però con l'aiuto della Russia, perché se questo sottomarino americano che si piazza sotto l'ossetto di Malacca comincia ad affondare uno dopo l'altro le navi commerciali cinesi, poi non deve essere attaccato da un sottomarino russo. Quindi bisogna che la Russia si stacchi dalla Cina. Vedete, sono tutte cose complicate. Mi sembra abbastanza tutto fantapolitico. Non è fantapolitica, guarda, perché praticamente la Cina ha nel commercio la sua esistenza. Senza commercio non esiste la Cina. La Cina non riuscisse ancora a vendere le tue... Mi pare sia fantapolitica perché Trump dovrebbe sacrificare tutto per... Ma non lo farà Trump. Trump non lo farà. Ma col tempo i nuovi presidenti, le nuove cose, arriveranno alla conclusione. O ci ritorniamo a casa nostra e aspettiamo tempi migliori, o dobbiamo fare così. Cioè l'America sa benissimo perché, guardate, la storia americana... Sicuramente sia Obama che Trump vorrebbero sganciarsi il più possibile dall'impegno diretto in Medio Oriente. Proprio perché sono più interessati, diciamo, a concentrarsi sul Pacifico. Ma purtroppo... Quindi sembrerebbe più realistico che cerchi di rilanciare gli accordi d'Abramo, soprattutto tirandoci dentro l'Arabia saldita. Allora, gli accordi d'Abramo sono stati fatti da Trump molto intelligentemente per dire «Caro Israele, ti faccio fare la pace con gli arabi e poi ti fai gli affari tuoi e mi lasci in pace». Questo è il discorso di qualcosa di Abramo. Fu fatti da Trump, non da me, e né da Biden. Che dicono semplicemente «Tutti i paesi arabi se ne fregano della Palestina, fanno la pace con Israele e lasciano in pace l'America che non deve più intervenire a difendere Israele ogni cinque minuti». E quindi ecco che l'idea era ottima. Poi questa cosa ha fatto alla fine che ha fatto perché Biden non ha saputo gestirla. Ma questo è un altro discorso. Ma ripeto, questo è il discorso. Gli accordi d'Abramo era un'ottima idea. Io, America, ti faccio fare la pace con l'Arabia Saudita, con l'Egitto, con la Giordania, con tutti questi paesi. Poi dopo tu, però non mi viene a rompere le scatole. Perché poi tu ti metti con loro in difficoltà. Infatti è vero che l'eroe fu fatto da Netanyahu. Oggi è uscito la documentazione che Netanyahu sapeva dell'attacco. Si era una persona intelligente, ma non il più furbo degli altri. Ha detto «Io con questo sistema di fare la guerra mi salvo dal finire in carcere». Perché Netanyahu, giorno dopo che non è più il capo del governo, finisce in carcere. Infatti i suoi figli stanno tutti in America. La moglie è scappata in America, tanto per saperli. Quindi il discorso è semplice. Gli accordi d'Abramo sono stati un ottimo… Dimosando che Trump ci sa fare, quando lo lasciano lavorare, ci sa fare. E l'accordo d'Abramo dice «Cari miei, non mi rompete, perché io sono all'America. C'ho problemi miei, perché non si sa bene come…». Insomma, bisognerebbe riprendere un po' la storia americana. Secondo te ti sembra più probabile che gli Stati Uniti, governati dai repubblicani, vadano su una linea di trovare, grazie agli accordi di Abramo, la possibilità di sganciarsi da quest'area del Medio Oriente, come avevano cominciato a fare già con Obama, per concentrarsi sul Pacifico e sul cortile di casa, cioè il centro-Sud America? Oppure ci sarà appunto il sostegno all'attacco all'Iran e addirittura si parla dell'annessione a Israele e della Cisbordania? Allora, io penso sì. Penso che il Pacifico è il destino dell'America e Trump, che è un americano vero, capisce che Trump è un vero americano, capisce, mentre Obama un po' di meno, anche perché il fatto che le sue origini non sono abbastanza chiare… Ma pure Trump, come tutti gli americani… Ha speso un milione di euro Trump, per dimostrare… Renato, Trump, prima ancora di entrare in politica, quando Obama era al primo mandato, ha speso un milione di euro… Ma senti, lasciamo perdere queste cose razziali che… No, no, ma non io, l'ha fatto Trump, ma l'ho fatto io… Sì, non ho capito, però vai secondo te su quale scenario è più probabile? È probabile il Pacifico, perché il vero obiettivo degli americani, per cui con la fine gli americani fecero la secessione dell'Inghilterra nel 1776, era perché l'Inghilterra impediva all'America di commerciare liberamente col Pacifico, con la Cina. E quindi gli americani hanno, come dire, un mito, il grande mercato dell'Oriente. E quindi loro sempre quella testa hanno, sempre il grande mercato dell'Oriente hanno in testa. E quindi per loro l'Europa può anche essere messa in seconda parte, se non ce la fanno… Certo, se ce la fanno ad avere Pacifico ed Europa, tanto meglio, l'hanno avuto per quasi un secolo, ora però è meglio fare delle scelte e scelgono il grande mercato del Pacifico. Il Great Market of Uffarists. Va bene, ok, grazie. Grazie, Orazio. Alla prossima. Alla prossima, Renato.